Quando Zelensky è un eroe, Zelensky è un modello per i giovani, merita più attenzione dell'Europa. Facciamo tutto per proteggere il nostro presidente. Tutto per noi. Si batte con il popolo in barricade, mangia con il popolo. È una persona molto generosa. Molto modesta. Bravissima. Siamo orgogliosi. Lui tiene il nostro popolo insieme, è forte. Il più bravo del mondo. Il popolo sta con lui. E lui sta con il popolo. Oh, oh. Ticca ticca.